Una situazione paradossale, quella che vivono alcuni inquilini di una palazzina della Terra Santa Barbara, l'unica a restare in piedi dopo il terremoto classificata B e restituita a proprietari ed affittuari nel giro di poco con qualche intervento per renderla di nuovo agibile. Un ascensore installato per abbattere le barriere architettoniche e che però non abbatte un bel niente, in quanto non potendo arrivare proprio al pianerottolo con i portoni degli appartamenti costringe comunque gli inquilini a fare le scale. Parliamo di persone di oltre 80 anni, alcune invalide, alcune delle quali non camminano addirittura, murate dentro le loro case. Un ascensore costruito ma nel quale entra acqua e sterco di piccioni continuamente si vede, tant'è che gli inquilini lo hanno fatto ripulire di recente alla meglio a spese loro. E in tutto questo l'ascensore non funziona proprio perché gli inquilini, costretti a pagare una sorta di assicurazione, ad un certo punto hanno deciso di non pagare più, visto che le scale si dovevano fare lo stesso e da lì ha smesso di funzionare. È una palazzina che ha un ascensore che non funziona, un ascensore costruito con la legge 104 per l'abbattimento delle barriere architettoniche ma nonostante che nella palazzina ci sono ben tre persone con la legge 104 l'ascensore non funziona. Inizialmente paguevamo pure diciamo l'assicurazione, sembra che era l'assicurazione, poi che è successo? Siccome non serviva più, non l'abbiamo pagato più, mia moglie non cammina più, quindi quanto dobbiamo portarla all'ospedale? Dobbiamo chiamare la Croce Bianca. Noi chiediamo all'Atre di ripristinare l'ascensore ma non facendo 10 più 10 scale ma con sistemi moderni. Luciano è un pittore aquilano che nel basso dell'appartamento ha realizzato un piccolo studio dove a tempo perso si dedica alle sue opere. Anche qui per scendere e salire, a 82 anni, è costritto a fare le scale. Luciano ci racconta di sentirsi abbandonato, anche tutto attorno alle case, quelle abbattute e ricostruite, c'è tantissima immondizia lasciata lì da anni e anni e mai portata via dal comune, ci racconta. E poi i lavori alla palazzina stessa, il marciapiede, così era e così è rimasto, scheggiato e danneggiato e davanti all'ingresso sistemate le cisterne dove però i piccioni continuano a fare i loro bisogni, a tutto di scapito del decoro e della salute. Siamo stati abbandonati dal comune in quanto ci sono ancora dei mucchi di immondizia che subito dopo il terremoto dovevano essere levati perché hanno ricostruite le case e quindi le hanno abbandonate e le hanno lasciate completamente là.